Oggi facciamo una bella passeggiatina con Maya, prima giornata di sole, bello, forte, senza vento freddo e ci estrovertiamo un po'. La mamma sta preparando praticamente da mangiare, preparare lasagne con pieta verde se mi ricordo bene. Noi ci facciamo una passeggiatina anche perché lei sta facendo un video Motivational Monday per il suo vlog. Ed ecco qua la nostra bella protagonista. Sì, dove vuoi andare? Cosa vuoi vedere? Sei curiosa? Che c'è di là? Che c'è di là? Interessante. Apriamo questo così. Apriamolo così. E apriamo questo qua. Così. Tu vuoi stare un po' più alzata. Allora noi... Ti... Mo' apriamo. Ma ti amo più alzata. Va bene così? Non sei ancora... Eh? Sì? Eh? Guarda come si ride. Andiamo là. In effetti oggi ragazzo fa un pacco. Un po' so tranquillo eh. E ti dai bello. In pratica oggi effettivamente fa un po' di caldo. Quindi ho dovuto togliere la giacca. Però va bene così. Almeno finalmente arriva un pochettino di sole, di caldo. Dopo tutti questi giorni di pioggia qua a Roma. E ci sono nuovi virgulti. Virgulti. E che parolone? Virgulti per quanto riguarda invece le piante. Tipo queste qua. Comunque dove abito io sono delle villette molto carine. Anche con dei bei giardini. Si posso vedere anche dall'altro lato. Di me e alle mie spalle. E poi ci sono alcune che sono veramente ben curate. Poi specialmente quando arriva la primavera e l'estate. La gente cammina tantissimo. Magari non adesso che è orario di mangiare. Orario di pranzo più o meno. Dopo pranzo. Anche se non dobbiamo ancora mangiare. Però nel tanto pomeriggio c'è gente che cammina. Si applica nella pista ciclabile. Ovviamente nella pista ciclabile. Qua praticamente alle mie spalle c'è una casa in muratura. Ogni volta che la vediamo io. E' carima insomma. E' bella. Con quel cammino in pietra. Cioè tutto quanto in pietra. Il giardino fatto bene. Curato. Veramente. E' bella. Una casa che comunque è acustica. E' bella casa. Bella. E tu che fai? Che fai lì? Anche tu guardi? Le piante? Eh? Maya? Che guardi? Che c'è l'interessante? Che c'è l'interessante? Che c'è l'interessante? Ti avevi visto? Con lo sguardo indagatore. Che stai facendo questo? Eh? Cosa c'è qua? Ci sono le piante. Ci sono le piante. Ci sono le piante. Ci sono le piante. Salute. Forse almeno se ti chiudo un pochettino. Sì. Sai che ti chiederò un pochettino. Eh? Ehi. Oh sì. Eh? Eh? Eh. Cosa? 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 Eh? Eh? Qu'è visto? Qu'è visto? Qu'è visto? Papà? Papà? Eh, lo so, tu ti vuoi alzare. Va bene. Vai, continuiamo un po' ad andare avanti. Andiamo avanti, vai. Qua alle mie spalle abbiamo delle billette in costruzione. Sono in costruzione da un bel po' di tempo, però ovviamente loro vanno avanti con i lavori, specialmente nel ferito in cui piove poco e non muore. Maia, acqua? Vuoi acqua? Eccolo! Eccolo lì che beve! Hai sete? Che fiatuzza? Tiro via, eh? Tiro via, non tiri via. Che fai? Sghignazzi? Eh? Come va bene? Eh? Eh, ridi che io tiro e tu ridi. Sorridi, eh? E io tiro via, e io tiro via. E io tiro via. Papà, ma perché non mi fai bere in santa pace? Ah, ecco qua. Ci distediamo un po'. Via, via. Non lo stacchi. Te la sei agganciata come i dentini, eh? Ok. Ancora? Ridi, eh? Eccoci nella pista ciclabile. Là, ci sono le barre per poter fare le trazioni. Sulla sfonda abbiamo praticamente due persone che a pezzo siano madre e figlia. O madre e figlio. Più il cane. Fanno una passeggiata. E di qua cosa c'è? Di qua non c'è nessuno. Ebbè. E' pure ora di mangiare, eh? Tra l'altro, mi è arrivato il messaggio da mia moglie che ha fino di fare il video. Quindi, stiamo rientrando a casa. Intanto qua andiamo un pochettino nell'ombra. Vediamo che famiglia. E tu che fai? E tu che fai? Amore. Stai pioccando tipo tutto. Guardalo, guardalo, guardalo. Il sorrisino è un po' sforzato. Lasciami dormire. Lasciami dormire. Ma che marina hai? Il sorrisino della principessa. Eccola. Amore di papà. Che sguardo. Eccola. Amore che dolce che sei. Ah, sembri capire il sorrisino. Sei dolce. Mi fa morire. Mi fa morire. Mi fa... Mi fa morire. E' bello. M ejecta. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. un pochettino il tettuccio però mi sa che si è addormentata sai ecco la vuoi riposa amore che vuoi non mi lasci dormire perché non la lasci stare la lascia riposare andiamo a casa siamo quasi arrivati andiamo arrivati buon appetito buonissimo buon appetito buon appetito buon appetito